Sì, è stata una vittoria nel punteggio rotonda, ma diciamo che nel complesso la partita è stata in qualche momento un pochino in equilibrio perché da parte nostra non c'è stata in alcuni momenti della partita la giusta intensità, la giusta determinazione per chiudere un po' prima, però giustamente c'erano anche gli appestati in campo, quindi era normale, dopo tutto ne avevamo da domenica scossa di fermo, quindi oggi per noi era importante di prendere subito il regime giusto, ci servivano i tre punti, li abbiamo raggiungi alla fine. Mister, allora sconfitta pesante nel punteggio, 4-0 qui a Maira, però sull'1-0 appesa sicuramente il calcio di rigore da voi sbagliato. Noi siamo una squadra di giovani, sicuramente il risultato non è bello perché 4-0, vai a giustificare un 4-0, però se andiamo ad analizzare la partita, tre gol sul calcio piazzato abbiamo subito, noi ci è capitato il risultato, la possibilità di fare 1-1 sul calcio di rigore, non tutte le già perescono col buco, ha preso la traversa, l'ha mandata, va bene così, merito all'Atletico Maida che è una buona squadra, credo che i miei ragazzi comunque abbiano fatto pure, hanno lottato, hanno cercato di portare al caso almeno un punto, noi ci siamo riusciti, proviamo alla prossima.